ciao a tutti sono nesi e oggi sono qui con un nuovo video e oggi vi faccio vedere un po di cosine che mi sono arrivate da bangood allora ho trovato diverse cosine carine e volevo farvele vedere e poi se vi interessa vi metto tutti i link in descrizione per le cose che ho acquistato ma costano veramente pochissimo tipo 2 euro a cosa e questo che vi faccio vedere alla fine 9 euro e 9 euro mi sembra sì sui 9 euro allora iniziamo dunque inizierei da questa che è una giratempo come potete vedere qua e praticamente allora mi sono arrivata in tre pacchi diversi anche se ho fatto l'ordine tutto insieme allora questa è la giratempo di di ermione di harry potter e la sabbia dentro allora sul sito diceva che era rosa però in quale realtà è grigia ed è proprio uguale all'originale praticamente e gira sia in questo senso sia in questo e ci sono tutte le scritte qui sui bordi è veramente carinissima ecco e veramente è adorabile anche la collana la chiusura anzi è veramente molto 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 carina guardate mi piace un sacco poi era da tempo che volevo una giratempo appunto e niente non avevo mai avuto occasione di prenderla perché alle fiere costa sempre tantissimo e questa invece costava 2 euro appunto circa quindi niente ve la ve la linko poi ci sono tanti colori ce n'è di tanti colori appunto lì sembrava rosa forse rosa chiara non so però mi sembra grigio da qua vabbè comunque è carinissima lo stesso poi poi questi queste sono due cose correlate ci sono questi stencil che sono praticamente fatti come se fossero pizzo e questi qua li uso diciamo per la nail art volevo praticamente se voi se a voi va fare magari dei tutorial di nail art ditemelo nei commenti io li farò molto molto volentieri e anche questo proposito ho scelto anche questo oggetto qua ce l'avevo già però questo è proprio fatto per i video in pratica in pratica è quella diciamo non so bene come dirlo però è quella cosa gommolina che che fa rimanere attaccato lo smalto qui e quindi posso poi trasferirlo sull'unghia e è fantastico perché appunto si vede attraverso e perciò posso farci dei video perché mentre mentre lo faccio lo riprendo anche veramente è carinissima io l'adoro e la vedo la vedo su tutti i video nail art e la volevo tantissimo e quindi ora ce l'ho e niente fatemi sapere se volete questi video nail art io ve li faccio volentieri e adoro tantissimo il pizzo e questi sono davvero molto carini e in più c'è ovviamente questa che serve per stendere lo smalto è veramente carinissimo e mi piace un sacco anche questi pagati pochissimo cioè in senso costano pochissimo e ve li lascio tutti in descrizione e poi c'è questa se riesco a tirarlo fuori ok questa è veramente bella allora è un choker che praticamente è fatto in pizzo nero con questi fiori e una un piccolo ciondolino a perla veramente mi piace tanto ce n'era un altro tutto nero di velluto con un con una pietra a cuore nera però era finito e quindi quello me lo farò da sola lo faccio prendo un pezzo di 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 filo insomma di velluto e me lo faccio questo è veramente molto molto carino comunque anche questo pagato molto molto poco i shocker mi piacciono un sacco quindi ora il pezzo forte allora questa che vedete qua fatta così a maglia ed è lilla e celestino è una coda di sirena allora in pratica che cos'è è una piccola mini copertina che serve giusto a coprire questa ho preso quella misura più piccola è una s altrimenti c'erano due misure di più però costavano di più quindi questa è quella che costa meno appunto 9 euro e copre praticamente le gambe e i piedi ora vi faccio vedere com'è eccola qua è veramente super carina e praticamente come vedete ecco copre fino a qua poco sopra il ginocchio le altre misure arrivano un po più in alto quindi se vi interessano altre misure scegliete le altre due insomma però io ho preso questa e mi servirà sicuramente quando studio e non ho voglia di cioè magari è freddo non ho voglia di utilizzare magari una coperta per scaldarmi è veramente adorabile e io adoro le sirene come sapete e quindi niente mi piace tantissimo e poi c'è questa allora questa qua io me l'aspettavo molto molto più grande dal sito è anche meglio che così perché grande come me l'aspettavo io sarebbe stata eccessiva invece è molto piccola wow un'altra bustina è molto molto piccola però ha una particolarità che ora vi faccio cioè non posso non so se posso farvela vedere ma allora è molto carina e argentata ecco e praticamente si dovrebbe aprire se non sbaglio aspettate sì ok si apre e come vedete qui all'interno ha questa questa sostanza qua in pratica è fosforescente al buio ce l'è sia in blu sia in verdi l'ho presa in verde perché sembrava dal sito che brillasse di più ora non so se riesco a farvela vedere perché è molto difficile però comunque dall'esterno si vedono tutte queste venature che si illuminano in verde di notte e è davvero davvero carina non so mi era piaciuta tantissimo e sono molto contenta che sia più piccola perché perché mi sa più particolare insomma sarebbe stata troppo eccessiva in quel modo grande come pensavo e quindi mi piace tanto allora quindi questo è tutto quello che mi è arrivato da banggood adoro tantissimo la coda di sirena ve la consiglio andate sul sito ve lo lascio qua in descrizione perché è tanto carina e niente io la utilizzerò appunto poi sono contenta delle cose per la nail art perché così magari posso farvi qualche tutorial ditemelo nei commenti se volete questi tutorial poi mi piace tantissimo la gira tempo perché era tanto 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 tempo che non che non non l'avevo mai presa insomma le fiere del fumetto e quindi finalmente ora ce l'ho sapete quanto amo harry potter perciò e adoro questo choker e adoro questa spero che funzioni bene ma non posso vederla ora dovrò farla caricare un po alla luce e poi la proverò è carinissima ok fatemi sapere nei commenti che ne pensate e se prenderete anche voi queste cose e insomma date un'occhiata perché ci sono tante cose carine sul sito e niente io vi mando un bacione un salutone partecipate al giveaway attivate le notifiche la campanellina si trova qui sotto a fianco al pulsante per le iscrizioni fatela diventare grigia mettete un like commentate se vi va e vi mando un grosso bacione e mi leggo sempre tutti i vostri commenti mi fanno sempre tanto piacere e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti